continuiamo a parlare di firebase vedremo anche qualcos'altro magari questa sera insieme a firebase ok questa sera voglio continuare con questa applicazione che avevamo iniziato a fare magari sistemandola un po mettendogli un po di grafica ci eravamo lasciati qui avevamo il nostro componente vi ricordate andiamo la lanciamo subito continuiamo a sviluppare questa questa chat ovviamente andremo a usare questa bellissima funzione di firebase ci permette di avere la sincronis la sincronia praticamente delle collection anche tra più host perché in realtà io ve l'ho fatto vedere in un'unica pagina web ma in realtà anche se ci sono più pagine web collegate ve lo posso far vedere ok lo mettiamo qui a fianco mettiamo anche firebase questo non ve l'avevo fatto vedere ovviamente ecco qui ad esempio se voglio cancellare questo diciamo utente guardate automaticamente si aggiornerà qui e qui qui non lo posso vedere perché è in alto però se aggiorno su browser eccolo qua vedete si aggiornata tutte le parti quindi possiamo usare questa la sincronia delle collection tra tutti i browser quindi anche tra quelli che si collegheranno quindi se prendo questo faccio l'update anche l'update vedete funziona intanto cosa facciamo e dobbiamo fare la guardia no dobbiamo mettere un out guard perché vogliamo che nella nostra chat e possano accettare soltanto gli utenti che si sono connessi quindi dobbiamo iniziare a fare fare le guardie quindi qui iniziamo creando dei servizi e qui andiamo come al solito andiamo qui anzi andiamo qua a questo le pages questo sign up poi andiamo a sistemare un po il tutto ora siamo qui cd up e abbiamo i servizi e quindi abbiamo creato il nostro servizio abbiamo lasciato lo spec cancelliamolo non ci serve al momento non ci serviva proprio un servizio perché abbiamo visto che possiamo farlo anche come come function no e quindi possiamo tranquillamente creare un servizio di guardia no allora export cost out tard chiamiamolo così uguale allora qui avevamo importato il can activate function questo qui che è uguale qui e c'eravamo il route no non chiede state activated acti vetted e route snapshot e poi anzi questo qui è il route e qui mettiamo lo state è che quindi ci verrà iniettato quando verrà invocata questa funzione quindi route snapshot e qui ci facciamo ridare ecco qua la nostra la nostra bella function dobbiamo andare a iniettare i vari servizi quindi dov'è che avevamo fatto qui con angola fire angola firebase qui c'eravamo l'out si eccolo qua andiamo a prenderci questo quindi ci servirà senza il private andiamo a prenderci e facciamo così togliamo un po di errore sennò qui magari ci mettiamo un cost questo qui era l'out di fire eccolo qui quindi ci siamo iniettati l'out di fire di angular file che ci mettono a disposizione poi andando a vedere avevamo lo user log ed è questo user log ed ci dà uno observa bollano se l'utente collegato oppure non è collegato quindi andiamo a prenderci questo in realtà lo user qui intanto andiamo importarlo lo user ci da un observable e qui possiamo ritornare un observable che il can activate function è un may be async guard result quindi qui possiamo ritornare un observable no? quindi possiamo fare un return user ovviamente questo non gli va bene perché non può ritornare uno user intanto non è vis.user ma vis.out quindi facciamo una bella pipe quindi qui facciamo un map ovviamente lo andiamo a importare quindi user e poi e che facciamo return user not equal not equal undefined quindi ritornerà true se l'utente non è undefined andiamo a implementarla andiamo negli routes questo è l'home components quindi per entrare nell'home components quello che vogliamo fare è quando prova ad accedere gli diamo ovviamente non me lo importa lo qua anche perché sbagliavo qui andiamo a importarlo can activate can activate perfetto ora se abbiamo fatto tutto bene e in realtà qui possiamo far così molto meglio const result uguale qui facciamo un return result però nel caso cui if not result e facciamo e andiamo a iniettarci anche il servizio const router uguale a inject router quindi qui possiamo fare vis router punto tanto non c'è il vis navigate by url barra e com'è che si chiamava sign in ecco qua perfetto ora se provo a vedere vediamo firefox andiamo a vedere qui qui probabilmente sono ancora loggato mi sa che abbiamo tolto via la possibilità di dislocarci mi sa e se vado qui mi sa che non c'è più e quindi magari lo mettiamo qui nel side nav content quindi qui abbiamo side nav content questo è non component in realtà non siamo loggati non siamo loggati quindi sembrerebbe che la nostra guardia non funzioni non funzioni e proviamo a fare un console log console.log result così andiamo a vedere subito se per caso se per caso siamo loggati oppure no è true quindi siamo true quindi dislocated quindi dislocated c'è vediamo anche lo user va andiamo a vedere qui facciamo così non è undefined ma è null e quindi ci ridireziona alla pagina di login ottimo perfetto ora la pagina di login magari possiamo sistemarlo un attimo sicuramente il side nav content non deve essere visualizzato quindi nel caso in cui l'utente non sia loggato dobbiamo nascondere della side nav qui quindi creiamo a questo punto un altro servizio creiamo user punto profile punto ts quindi a service perfetto user profile service così lo mettiamo da un'unica parte e abbiamo risolto quindi togliamo via questo lo mettiamo qui senza magari lo mettiamo in private importiamo tutto quello che è necessario perfetto il costruttore lo togliamo via e qui facciamo islogged a questo punto possiamo usare signal quindi to observable ovviamente quindi angular angular barra angular barra core barra rxjs interop e qui c'è il to to signal lo vogliamo trasformarlo in to signal quindi to signal e qui gli diamo l'observable e gli osservo gli diamo quindi vedendolo qua dobbiamo copiare praticamente questa parte quindi così qui mettiamo il vis qui aggiungiamo lo user facciamo così mettiamo di metterlo un po' più ordinato quindi quindi pipe map allora qui abbiamo lo user e facciamo la stessa cosa che avevamo qua ovviamente toglieremo via il router esatto quindi se è loggato ritorna true quindi slogged dovrebbe essere bull undefined perfetto andiamo a cambiare l'outguard quindi qui faremo user profile file uguale inject user user profile service quindi qui metteremo user profile service punto islogged ovviamente con una funzione e dovrebbe bastare passargli questo andiamo a verificare adesso io qui tolgo via questo no non mi sembra che perché in realtà ho cancellato troppo perché qui c'era l'islogged quindi facciamo così const islogged uguale questo e poi se non è loggato facciamo un root navigation by url e qui facciamo un bel ritorno islogged adesso dovrebbe andare infatti adesso io provo ad andare qua non riesco ad accedere perfetto se invece faccio l'autenticazione ad esempio con google vediamo adesso sono loggato vediamo un po' mi ha sloggato e adesso mi ha riloggato la cosa strana che possiamo notare è che prima facendo il refresh della pagina mi manteneva loggato e mi sa che se qui metto nel sign in lo user quindi l'out ce l'abbiamo facciamo così user uguale a user uguale a user divise punto out facciamo con il dollaro e andiamo importare user se adesso prendo questo faccio la solita cosa che faccio sempre vediamo pre quindi user pipe async pipe json ovviamente non li trova e li andiamo a importare async pipe json pipe perché perché non gli piace lo pipe async pipe ah beh certo c'ha ragione se non gli metto async eh sono loggato quindi la nostra guardia fatta con signal mi sa che non funziona facciamo un'altra prova andiamo a metterci poi cancelleremo tutta sta roba sta robaccia islogged anzi prima prendiamo il servizio user profile file uguale a inject di user profile service e a questo punto anzi facciamolo così facciamolo direttamente esposto e andiamo a prenderci facciamo una copia di questo e andiamo a vedere user profile punto log perché non mi piace questo user profile service punto niente islogged lo vado a prendere io dai vediamo islogged vediamo islogged è true ha funzionato fatemi ragionare del perché l'outguard ah ok perché la prima volta guardate la prima volta non è logato console punto log out guard islogged poi mi rimanda di là guardiamo se la mia teoria è giusta il problema è che la prima volta rifacciamo la prova ah no aspettate ragazzi se io metto così vediamo vedete ha caricato è false e poi arriva true giusto a questo punto dobbiamo fare una modifica sull'outguard non sull'outguard sullo user profile quindi questo però ok no dobbiamo farlo qui dobbiamo farlo qui dobbiamo praticamente andare a sentire dobbiamo andare a sentire il cambiamento di questa variabile di questa Grazie a tutti